Le foto pubblicate dal settimanale chi mostrano la raggiante famiglia Totti quasi al completo tra le nevi di cortina. Il quasi è d'obbligo, visto che a mancare nel quadretto immortalato dalla rivista è il capofamiglia, Francesco, impegnato con la Roma e perciò assente giustificato ad una delle prime vittorie sportive della figlia Chanel, vincitrice della sua prima competizione di sci. Con la piccola grande campionessa di 10 anni c'è mamma Ilari Blasi, nonna Daniela e un gruppo di amiche con i rispettivi figli. E' il secondo anno di fila che vengo e ho incontrato un sacco di persone che conosco. Ho anche messo su tre chili, pazienza. Adoro Cortina ha confidato la conduttrice al settimanale di Alfonso Signorini che mostra gli scatti del soggiorno della signora Totti sulle Dolomiti, ma in tutto ciò Ilari Blasi non trascura certo gli impegni professionali. A metà settimana, infatti, è andata a Milano per la diretta delle Iene per poi tornare immediatamente dai suoi bambini che, stando al piccolo grande successo della secondogenita, dimostrano di avere una certa predisposizione per le gare sportive.